Il nuovo piano delle corse ARPA che sarebbe dovuto partire oggi è stato congelato, quindi ne è stata sospesa l'applicazione a causa della complessità e della grandezza di operatività dei servizi ARPA. L'ho annunciato questa mattina a Pescara l'assessore trasporti Gian Donato Morra durante la conferenza stampa convocata per fare il punto sulla riorganizzazione in atto nel trasporto pubblico regionale. L'obiettivo sarà quello di migliorare la proposta ARPA specificato l'assessore, salva guardando in primis il pendolarismo lavorativo e studentesco e quello delle aree interne. Sentiamo. È chiaro che l'ARPA essendo l'azienda più grande comporta un piano più impegnativo e quindi ho sospeso l'applicazione, cioè mi è stato presentato un piano, non l'ho approvato, proprio nell'ottica di migliorarlo nel senso di dare minori disagi a quella che è la popolazione. Però alcune cose le dobbiamo dire perché più ci si allontana dal giorno in cui abbiamo approvato la norma e più si parla di cose che sembrano distanti anni. La norma in Abruzzo è la norma più bassa in Italia. In questo momento nel Molise i dipendenti delle società di trasporto sono di notte a fianco dei pneumatici accesi per protestare contro licenziamenti. Tutti i dipendenti delle società di trasporto abruzzesi stanno guidando in questo momento i pullman. Qualcuno l'ha dimenticato. Intanto entro una settimana avrà luogo il primo taglio relativo alle sovrapposizioni di corse, mentre successivamente Morra ha confermato che ci saranno degli adeguamenti tariffari nella misura del 10% che verranno distribuiti secondo fasce di reddito, per cui nel caso dei meno abbienti gli aumenti saranno di pochi centesimi di euro. Nel frattempo il 30 aprile prossimo approderà in Consiglio regionale la proposta di riordino delle società di trasporto pubblico che punta alla definizione di un'unica società di trasporto su ferro e di un'unica su gomma.